Due, tre, prego. Buongiorno a tutti, sono Giovanni Coino, insegno diritto costituzionale al Dipartimento di Giurisprudenza della nostra Università. La collaborazione con la John Marshall Law School di Chicago va avanti sin dal 1998 e molti dei nostri studenti hanno avuto la possibilità di andare a Chicago e di svolgere un progetto, un'esperienza di livello internazionale in un ambiente molto, molto stimolante. Per fortuna abbiamo, la Regione Sardegna ha finanziato questo bellissimo programma che ci consente di avere una maggiore visibilità a livello internazionale e consente a tutti di capire l'elevato livello di ricerca che riusciamo a portare avanti anche nella nostra isola. Ringraziamo l'Università che ci ha dato questa possibilità e che dà la possibilità a tutti i nostri studenti di interfacciarsi con colleghi e ricercatori di profilo internazionale particolarmente elevato. Grazie.